SIGLA Buongiorno, signorina Garzia. Buongiorno, raggio di sole. Mi manchi. Vorrei darti un bacio ora. Sì, magari un giorno. Il coprifuoco è in vigore. Tutte le persone non autorizzate devono rimanere in casa. La tensione sale. Siamo alla 213esima settimana di lockdown. Incinocchio! No, 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 sono immune! Sono immune! Tutti i contagiati vengono trasferiti nelle zone di quarantena. Sembra di essere al cinema. Vedi bene? Sara, che succede? Scansione termica avviata. 3, 2, 1. Rilevata a Analia. Con lei porteranno via anche me. Guardie armate arriveranno entro 4 o 6 ore. Non provate a uscire di casa o vi spareranno a vista. Ti amo. Stanno arrivando. Devi andare via, Lico. No, 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 no. Sara! Sara! Adesso dimmi a Dio. A volte dobbiamo fare cose che non vorremmo fare per sopravvivere. Voglio salvare l'unica persona che mi è rimasta, a cui tengo davvero. Non posso aiutarti. Quello che chiedi è illegale. Niko. Sono qui. Adesso Orano Grazie per la visione